la vitamina D andrebbe assunta, c'è la favola della tossicità della vitamina D la vitamina D per divenire tossica dovrebbe raggiungere dei livelli tali al di sopra delle 150-200 mg che in realtà è pressoché impossibile che un essere umano possa raggiungere questi valori sierici per cui la vitamina D va assunta, come va assunta? Sicuramente è un po' anacronistica l'assunzione della vitamina D in boli è sicuramente preferibile, quindi il bolo mensile o una volta usava anche ogni tre mesi sicuramente è preferibile l'assunzione giornaliera perché riusciamo ad avere una stabilità sierologica assolutamente preferibile quindi non abbiate paura di assumere la vitamina D e a mio avviso non è una moda assumere la vitamina D è che finalmente ci siamo resi conto che è importante quindi non è un po' anacronistica